Ancora un provvedimento disciplinare nei confronti di Vincenzo Pastore, ex presidente del Comitato Regionale Campania della FIGC. Per lui è arrivato il deferimento da parte della Procura Federale per aver posto in essere nella stagione 2014-2015 condotte rivolte ad alterare il risultato di singole gare e il medesimo esito dei relativi campionati nella piena consapevolezza delle conseguenze del proprio operato. Secondo la Procura, infatti, Pastore provvedeva a concretizzare un sistema incentrato sulla costante e deliberata violazione della regolamentazione sportiva del CONI, nonché delle norme federali, legittimando l'utilizzazione nei vari campionati di un numero elevatissimo di calciatori risultati privi di tesseramento e di certificazione di idoneità sanitaria, omettendo di trasmettere gli atti. In base a quanto riportato nel deferimento, sono state 1.272 le gare irregolari, 357 società coinvolte e 828 calciatori raggiunti da sanzioni che non risultavano tesserati. Secondo la Procura, infine, Pastore avrebbe agito con abuso della qualità e delle funzioni di presidente del Comitato Regionale Campania, favorendo l'estensione del fenomeno e procurando conseguente e ingente danno per l'immagine dell'organizzazione federale. Per Pastore, alla luce di quanto emerso dalla richiesta di deferimento, si potrebbe aprire anche una possibile radiazione dai quadri federali.